ciao a tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo su flappy birds e ho trovato la versione per pc e oggi ci sarà da sclerare questo gioco è stato creato per i telefoni non oso immaginare quanto scler quanti scarmi rotti abbia procurato questo gioco e iniziamo iniziamo ok uccellino non farmi incazzare come non detto allora calma e sangue freddo ce la possiamo fare 11 già facciamo dai il demonio avevo non so capace io donna che odio 12345 porco duo fatto 6 è già una cosa positiva di solito faccio abbastanza schifo in giochi simili tipo ora ok ok uccellino ciclope brutto come la fame che pochè chi è che ha avuto l'idea di fare questo gioco potevi mettere un personaggio decente invece di un uccello ciclope fatto con i piedi do oggi qualcosa rompo oggi qualcosa rompo dai sono super concentrato porco due mi sa che oggi vedrete madonna che volano e ho sbagliato pure tasto da premere ho fatto schifo ma perché su su madonna secondo me è impossibile chi ha inventato questo gioco è un fottuto genio del male è proprio sadico madonna non è possibile sono tre minuti che gioca e già lo sto odiando in una maniera assurda questo gioco ti sto odiando uccello di merda perché ho dovuto fare io questo gioco perché non è possibile chi è riuscito a fare il punteggio massimo come cavolo ha fatto come ma non è possibile e che palla madonna questo video non è family friendly mi sa tanto non si può essere family friendly con questo uccello del cavolo dai 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 è poco giusto sul 6 e sembra quel 6 maledetto voglio prenderlo e ammazzarlo con le mie stesse mani madonna porco dio porco due porco non mi sono nemmeno nervosito così per un gioco non mi nervosivo così da tanto tempo non ne faccio una giusta allora ho problemi io a giocare questo gioco che è fatto con i piedi ecco non ce la faccio non ce la faccio e porco due sembrava troppo bello per essere vero madonna madonna stuccello chi che l'ha programmato te venisse una paralisi secca è giusto giusto alla fine no è inconcepibile non si può e è ingiocabile sto gioco c'è ingiocabile è un prova non bestemmiare no 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 veramente era super statico colui che ha fatto sto gioco di merda non so come come abbia fatto a diventare di moda quando è uscito sul sei e sempre su quel fottuto sei ma che ho fatto di male io no 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 pur lo spigolo più stupido deve prendere pur la parte più inutile e porco sarà pieno di bestemmia questo video non voglio parlare che dalla mia bocca escono solo bestemmi escono solo bestemmi ma perché non ci credo mai nella vita sarà la miliardesima volta che lo faccio non giuro andrò andrò a vedere uno speedrun su questo gioco voglio vedere come diamine ha fatto sto calmo che con la calma si riesce a fare tutto invece no un cavolo non si riesce a fare uno almeno uno giuro mi fa diventare pazzo sto gioco facevo bene io prima che non l'ho mai giocato e che porco non me ne frega io non me ne vado di qui fin quando non faccio un punteggio decente porco c'è proprio questo gioco è tarato che quando vede che fai un punteggio una cosa decente ti deve mettere la difficoltà cioè non è inconcepibile madonna no no è porco giusto là dove andare a sbattere uccello del piffero non ci credo stavo per fare una cosa decente decente madonna e ho l'ansia ora scommettiamo che arriva al 6 e perdo? ma va non l'avevo mai detto guarda quel 6 è il numero più sfigato secondo me madonna no no è porco dio no vabbè no vabbè no vabbè no 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 se arrivavo a 10 ero stra felice stai calmo no 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 se arrivavo a 10 ero stra felice percorso lo vorrò fare all'infinito devo arrivare al mio punteggio madonna madonna basta giuro sclero come un dannato basta basta giuro basta sto di andare a colpire pure lo spigolo più cretino mi sto talmente incazzando che sto perdendo spesso quel 6 è maledetto è maledetto nooo madonna di cristo no 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 mancava uno non ci stavo credendo one eternity later va a fan culo va a fan culo va a fan culo come un po